parliamo oggi di belle poche il radicale mutamento tecnologico determinato se nella seconda metà del 19 secolo congiuntamente alla ripresa dello sviluppo industriale verificato si soprattutto in europa dopo la fine della cosiddetta lunga depressione quindi dopo il 1893 portò alla nascita di una nuova stagione o di una nuova fioritura politica economica sociale dei paesi europei e segnatamente della francia si verificò infatti una crescita demografica generalizzata e si registra che all'inizio del nuovo secolo nel mondo raggiunse la cifra del miliardo e mezzo di persone di cui un quarto circa era ospitato in europa e la stessa speranza di vita si alzò sino ai 47 anni questo momento demografico fu reso possibile dalla scoperta di nuovi procedimenti di pastorizzazione dal nome del francese Pasteur di pastorizzazione del latte cioè della eliminazione di agenti patogeni responsabili di gravi infezioni a seguito del consumo di questi alimenti del latte non pastorizzato inoltre grazie al medico tedesco Koch si scoprì il bacillo della tubercolosi come anche il bacillo del colesterolo quindi vi fu anche un allargamento degli orizzonti scientifici con la stoperta della radioattività gli studi dei coniugi curie nonché la rivoluzione in fisica con la relatività ristretta e generale del fisico austriaco tedesco Albert Einstein successivamente naturalizzato statunitense dunque per bell'epoca si intende un periodo compreso tra il 1885 e il 1915 una cosiddetta bella epoca stagione bella e così chiamata soprattutto dai francesi a seguito dopo solo dopo la conclusione del primo conflitto mondiale a ricordare o a voler guardare con nostalgia ad una passata stagione probabilmente non più ripetibile e considerata appunto bella per contrasto agli orrori del primo conflitto mondiale ora sicuramente l'aspetto principale di questa stagione è il numero massiccio di innovazioni tecnologiche come l'invenzione del motore a stoppio la sua applicazione alla bicicletta la nascita dell'automobile nonché i primi esperimenti di volo umano ma anche la nascita di un vero e proprio tempo libero come con l'invenzione del cinema con l'invenzione e la diffusione sulla rega stala del drammofono per l'ascolto della musica nonché la diffusione della pratica sportiva degli sport amatoriali ma anche degli sport professionistici nel 1996 ad atene si terrà poi anche la prima olimpiade dell'era moderna riprendendo la tradizione delle olimpiadi antiche durante le quali le città reche sospendevano ogni ostilità fu il barone del coubertin a promuovere il recupero di questa tradizione ma cominciò a diffondersi anche il turismo o meglio il turismo cominciò a diventare anch'esso un fenomeno di massa sia nella sua forma di viaggio conoscitivo sia in quella di vacanze di riposo e di svago nastono in questo periodo anche le prime stazioni balneari e montane tuttavia la belle epoche non fu soltanto una stagione bella di svago lieta spensierata sono presenti al contrario delle profonde inquietudini con relate soprattutto alla ricerca di una nuova identità tra la fine del diciannovesimo e gli inizi del ventesimo secolo con una crisi della famiglia e dei ruoli sessuali tradizionali il rifiuto anche dell'ipotesia borghese e delle convenzioni sociali il diffondersi di atteggiamenti originali e trasgressivi tutti questi comportamenti che esprimevano in modo provocatore il bisogno di adeguare lo stile di vita alle esigenze del tempo erano spesso vissuti con un sentimento di intensa drammaticità era come se l'individuo posto di fronte all'improvviso a così tanti cambiamenti avesse smarrito perduto il senso della propria identità e le solide certezze del passato senza però aver ancora trovato dei punti di riferimento stabili stabilità orientamento per il presente questa situazione di crisi esistenziale stimolò dunque la ricerca di nuove soluzioni che si manifestarono con rinnovata creatività in tutti i campi della cultura della letteratura dell'arte della musica della filosofia in questo stesso periodo sigmund freud metteva a punto il metodo scientifico della psicoanalisi con cui cercava di far emergere il livello inconscio oscuro e istintivo della mente umana per dare una spiegazione alle contraddizioni e ai disagi dell'individuo inoltre nello stesso periodo nice contestava l'idea di progresso distruggeva valori borghese tradizionali ed esaltava la volontà di potenza che tendeva a proiettare l'individuo in una dimensione oltreumana al di là del vero e del falso al di là del bene del male al di là degli istemi conformistici e dei condizionamenti della cultura occidentale e allora la belle epoche presenta anche una incredibile esplosione di irrazionalità ovvero l'avvento di un nuovo tipo di cultura che faceva dell'azione istintiva violenta irrazionale il proprio fondamento espressione sicuramente di un profondo disagio interiore questa cultura elemento anche una nuova visione della politica sempre più addressiva in quanto basata sulla volontà di affermare il primato della propria nazione il patriottismo ottocenteslo cedeva così il passo ad un senso fanatico della grandezza e dell'onore della nazione intesa nel duplice aspetto di realtà politica e allora parliamo di nazionalismo e di realtà etnica e allora parliamo di razzismo l'unione o la duplice natura di questo sentimento fanatico di onore nazionale portò a fenomeni di xenofobia e ad un patriottismo viscerale e intollerante basato sulla negazione dei valori dei diritti degli altri popoli delle altre nazioni e in francia germania austria e russia si diffusa ampiamente l'antisemitismo fomentato da false accuse che trevano origine dalla convenzione dell'esistenza di un complotto giudaico volto alla dominazione del mondo intero ad opera delle banche delle grandi industrie della stampa della massoneria e dei partiti politici la consapevolezza di questo clima crescente di intolleranza spinse verso la fine del 19 secolo la cultura o la comunità ebraica a formare un momento politico definito chiamato sionismo il cui fondatore è considerato l'austriaco di origine ebraica erzl lo suo pressionismo era quello di creare uno stato ebraico sanando la cosiddetta diaspora al galut cioè la dispersione degli ebrei nel mondo a partire dal 70 dopo cristo per volere degli imperatori romani e ricostituendo quindi una nazione ebraica metterà a riparo gli ebrei da nuove persecuzioni o discriminazioni tale patria fu in seguito individuata in palestina in cui gli ebrei avevano vissuto in tempi remoti e già a partire dai primi decenni del novecento diverse migliaia di ebrei originari soprattutto dell'europa orientale emigrarono in palestina questo flusso migratorio mai autorizzato formalmente dall'impero ottomano perché la palestina era formalmente parte dell'impero turco ottomano dopo qualche decennio avrebbe incontrato l'ostilità del mondo arabo generando quella tensione o quel conflitto irrisolto arabo-israeliano che sopravvive e che è a luogo che esiste tuttora ora in un clima di diffuso razzismo ebbe notevole successo in europa il saggio sull'ineguaglianza delle razze umane del francese dei gubina un libro che pubblicato nel 1855 teorizzava la diversità delle razze e la superiorità su tutte le altre razze di quella ariana che in realtà non esiste che era un'invenzione la razza ariana a suo avviso costituita dalle componenti più pure originari del ceppo germanico questa studia teoria venne ripresa alla fine del secolo dall'intellettuale tedesco di origine inglese houston chamberlain nell'opera ai fondamenti del ventesimo secolo pubblicata nel 1899 e che ebbe un eco internazionale inusitata fu anche alla base di simili teorie che si affermò il cosiddetto pan germanesimo manifestatosi dapprima come aspirazione a riunire in solo stato tutti i popoli germanici in seguito soprattutto dopo l'ascesa al trono nel 1888 dell'imperatore kaiser guglielmo secondo finito con il trasformarsi nell'esaltazione dell'assoluta superiorità della razza germanica la sola ritenuta degna di guidare il mondo guidare o per meglio dire dominare il mondo intero grazie a tutti